Hanno vinto i no. In Svizzera il referendum per introdurre il salario minimo non è passato. La consultazione, che puntava a garantire a tutti i lavoratori 22 franchi, 18 euro circa l'ora, e che avrebbe portato gli stipendi del paese elvetico a tetti mai raggiunti al mondo, in Germania il salario minimo è di 8,50 euro, in America poco più di 10 dollari, è stato bocciato dagli stessi svizzeri e in maniera netta. Per il disappunto dei promotori, sindacati, verdi e socialisti, che continuano a sottolineare come il costo della vita nel paese sia altissimo con un lavoratore su 10 che fatica a pagare l'affitto. A tirare un sospiro di sollievo invece sono gli imprenditori svizzeri. Un salario minimo così alto, si è spiegato in campagna elettorale, avrebbe bloccato o sensibilmente ridotto le assunzioni, soprattutto dei giovani, e frenato la crescita economica del paese.